È stata una partita dura, sono contento perché tutti dietro difesa abbiamo fatto un ultimo lavoro e sono partita così, è dura da giocare, l'Inter è una buona squadra, ha vinto tante partite, abbiamo giocato a casa loro, quasi vinciamo però portiamo un punto a casa e è importante anche prendere quello punto per la classifica, speriamo di continuare così, mantenere il livello e adesso pensare alla partita di mercoledì. Peccato per quel gol preso subito in apertura di partita, poi avete preso le misure e non c'è stata più storia. Sì, sì, però le partite sono così, a questo livello se tu dai un'opportunità dopo alla fine la paga molto, è molto costoso. Però niente, io prendo questa partita molto positiva perché ante la difficoltà abbiamo creduto, abbiamo continuato a giocare fino alla fine e per fortuna quasi la vinciamo. Adesso ci si riposa un po', anche perché poi, insomma, forse non c'è neanche il tempo di riposare perché mercoledì c'è subito un altro impegno in Coppa Italia, quindi inizia la terza competizione che vi vede protagonista. Stiamo in un periodo così che molto non possiamo pensare in quello che abbiamo fatto, sempre c'è poco tempo per festeggiare, per approfittare o per riposare e adesso arriva mercoledì un'altra partita e per fortuna è così, giochiamo ogni tre giorni e speriamo quindi che sia sempre così.